reggisti l'audio da ts? reggisti l'audio da ts? no e voglio provare a vedere se è buono no voglio provare a vedere cosa è buono ho lo chicco bravo bravo no ho detto bravo no ho detto bravo che c'è allora avete tutti il piccolo di ferro quindi iniziato a utilizzare quello perché stai utilizzando quello di diamante perché suri al paolo e vuole morire con classe fanculo non vi ammazzate ragazzi ragazzi state calmi state calmi questo episodio ecco mi sono caduto calmi un po di ordine in questo cazzo di episodio di a quel coglione non toccarmi mai più separati già registrando separati i chai matrimoni ohhhhhhhh ahahahiii idiota co cosa guardali guardali come litigano le cose bambini dell'asilo ma dammi l'arma io non ho l'' sei morto quindi devi ciò no si sta robando il ferro da dentro la cosa rimetti il ferro lì mi faccio l'armatura ladro di ferro posso andare? eh va indiglista Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nella terza parte dell'episodio 28 Abbiamo iniziato sclerando di brutto Mi hanno distrutto tutta la mappa Ma non dire mi hanno Lui Io non vi ho ancora presentato perché parlate Perché Surya mi sta antiparato Dovevate stare zitti Comunque siamo in compagnia di Stephanie e Sury E questa volta cercheremo di fare un episodio fatto per bene Ma sta iniziando come al solito male Diti di un toccare a quel deficiente Sono andato sopra a prendere Diciamo dei materiali per organizzarci un po' Perché stavamo messi male Ho posato anche i diamanti che abbiamo trovato E quindi adesso ci andiamo a esplorare No 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 E Sury lo chiudiamo dentro La roccia Dai fai strada Io? Vai Allo sbaraglio Non ricordo male che era la terza guerra mondiale Oh cazzo Ecco Perfetto Con calma Avete tutti i materiali Ma io illumino Io illumino Dietro 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 Di chi? Dietro tua Eh ma anche davanti Ti prendono un po' dappertutto Massacrati tutti Sì Oh Sury basta Ma cosa? Eeeh Però Questa parte è enorme Sì Ci fa di tutto Comunque ragazzi Visto che abbiamo fatto questi episodi Stavamo poi pensando in futuro di aprire anche una vanilla In multiplayer Perché sarebbe veramente figo A me non piace in certo la vaniglia però La vaniglia non ti piace? Ma questa è vanilla No vaniglia ok no E' un nuovo gusto E' un nuovo gusto Quello del 2015 E' stato del 2015 Gusto vaniglia Qualcuno smetta di tagliare la cocaina Surreal Graz Se Suri già è rimasto indietro Ma guarda che vaniglia in inglese Ma no sono qua Vaniglia in inglese si dice vanilla Cioè tu dici vanilla Ma in realtà si pronuncia vaniglia Allora Suri Tu che sei saggio di Minecraft Penso Perché in Minecraft la cosa normale si chiama vaniglia? Fai lezioni di Minecraft Perché annonce piace la vaniglia Ha detto Ah questa Minecraft normale Mi piace come è girata la vaniglia Come lo chiamo vaniglia E' così la storia Questa è la spiegazione Sì sì Perché l'alcor la chiamata alcor e non chocolate? Perché no no Voleva chiamarla alcolato 100% cacao Però al 100% era anche molto hardcore Alla detto vabbè chiamano alcor Eh perché deve essere alcor Guarda che mangiare al 100% cacao Cioè Deve essere davvero alcolato Cazzo roba è qui Fa cagare ma tanto Vai all'assalto dello scheletro Oh madonna io odio Gli scheletri su Minecraft Eh cosa dovrebbero fare scusa? Mi fanno incazzare Fanno i knockback Se non ci fosse knockback Andrebbe bene Oh oh Attento Nell'acqua Oh merda Dado knock Con calma Con calma Con calma Surri 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 State calmi Io sto solo guardando la situazione da lontano Con calma Io sto raccogliando Oddio quanti sono Oddio quanti sono Ma che cazzo C'è uno spawn e non ho mai detto niente Eh vedo troppi mob ragazzi Vedo troppi troppi mob Con calma Ma dove sono? Io non mi devo punti Guarda sopra Guarda sopra Surri Guarda sopra Catruia Rimani Guarda come si sente forte Con la corazza in diamante La spada in diamante Oh Oh Non morire Non morire Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Via 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 Guarda mi ha trovato un dungeon Look at this Ma dov'è il dungeon? Qua Oddio È il primo dungeon della serie ragazzi Che è vuota sicuro eh Che è vuota sì No ma è vuota perché No giuro No ragazzi è vuota perché la spiegazione ve la do io Perché la mia mappa è bugata e tutte le cesse sono vuote Questo già lo sanno i miei iscritti quindi Ok divertito Non potrò mai trovare niente In giocare questa mappa Scusate fammi capire Non hai salvato per bene la mappa? No la mappa si è bugata e all'improvviso Non ha dato più l'inizio nelle scelte Così è a caso Ogni volta che metto la 9.8 I dungeon si svuotano Così per magia Ma comunque tanto nei dungeon si trova sempre roba di merda E tutta la roba Ma non è vero Ci sono le selle Le selle si pescano Pescano? Si pescano Sì è vero La 9.8 si pesca Ne ho pescate varie L'importante qui è trovare Sì però io vorrei far capire un po' Che qua c'è una situazione di razzismo Perché sono lungo con l'armatura bianca Eh vabbè sti cazzi Sei arrivato ultimo Sei morto 5 milioni di volte No non è vero Sono entrato prima io nel server Comunque questo dungeon Potrebbe portarci All'end Eh potrei sì Eh no Oh Dietro 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 Ma Che sta succedendo Surry la smetti di giocare Io La smetti di giocare con i Lego Io nel frattempo ragazzi do un'occhiata a tutto Comunque se Se riuscirò in qualche modo cercherò di sbugarla Sto fatto della mappa Magari salvo questa mappa la porta in 1.8 punto 1 e vediamo se le ceste si riempiono spanner no e non lo rompere non lo rompere lo giallo bene 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 che è ender per no perché è che metti provato vale davvero la roba del land a ok è vero no non ce l'ho c'è forse c'è lì io non renderai che cosa no è un'altra cesta che sarà vuota vuota i bug di merda di minecraft ragazzi quanto è bugato ma in qua c'è un danio si può interessare e se ti trovassi ragazzi mi sono perso ho un'idea un'idea scavo così prima o poi mi troverò che cos'è questo che non sono erano aspetta ragni velenosi i ragni velenosi sono quelli che danno più ex si potrebbe fare una farm di ex no più più che esperienza è il fatto che sono sono larghi solo un blocco per un blocco quindi è molto facile fare una farm di questi rispetto ai ragni normali perché i ragni normali sono sono i ragni normali sono morto è morto ragazzi ha fatto una laghiata ha fatto una laghiata e lo sono infatti mi hai fatto tipo teletrasporto tipo matrix e sei andato in fondo al tunnel vabbè perché io puo tu puoi guarda scommetto che skype che falzone ma io faccio tutto con skype ma dove cazzo ero si ma ragazzi in tutto ciò visto che le ceste in questa mappa sono bugate il nostro scopo in miniere è di trovare diamanti a che livello siamo? siamo al 28 non troveremo mai diamanti quindi dobbiamo scendere non troveremo mai più surreale per te non c'è proprio un cazzo da fare madonna piccolo surreale non ho murare vivo vai ma lui continua a murare ma troverà la strada di casa mettiamo più torce proprio per non fare comunque sto finendo tutto il piccone di diamanti perché ne sto abusando fin troppo bravo ti ho detto di usare il piccone di ferro l'ho fatto io e tu niente usi quello mio eh lo so ma quello di diamanti spacca più veloce cazzo me ne frega sento rumori sento rumori sento rumori che vengono da qualche parte oddio zitti tutti verso l'infinito qua puoi farci a ferrovia dello stato proprio tutte ste cose sto piando infatti cercando di prendere più binari possibili perché comunque ma avevi la farm quella lì è la farm dei binari alimentati un'altra chest vuota perché di quegli alimentati? no no aspetta 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 controlla ora mamma mia che roba sette di ferro una selce e un occhio di ragno mamma mia ragazzi mi venite incontro per cortesia beh sei te che li vai dietro e te ne vai da solo ragazzi ho trovato un'altra grossa che va verso il basso e quindi questa è buona perché possiamo trovare diamanti mi sono perso venite qui dove sono io eh dov'è che sei te qui qui sotto ah io ho trovato un dungeon con gli spawn eh intanto non servono a un cazzo aiuto aiuto non morire con gli stivaletti cazzo sto morendo sto morendo morire morto porca puttana dove cazzo è stephanie spero vado a prendere ragazzi venite l'incontro per piacere ho sentito l'esplosione esatto aiuto aiuto dove cazzo hai ma dov'è chi sei non lo vedo più cazzo di bud è pieno di animalaccioli ma dove sei per aiuto lo vedi il nostro nome lo vedi si si venite venite taglia taglia ma vc è ancora sono a 30 mila chilometri di buono spec che arrivo io ho l'arma potentissima mezza rotta qua indietro 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 dove 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 ok che cazzo ci facevi lì eh perché stavo scavando un tunnel là vedi per raggiungervi vieni come ho trovato vieni qui ti porto io nella strada vieni vieni qua vieni qua a te ma è profonda vai in basso ma no vedi di qua vedi di qua oh uno spawner vero 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 c'è uno spawner aspetta ma c'era la strada per i diamanti di là che cazzo sento rumori sento rumori eh qui c'è un altro ma che cazzo di roba sono eh questa è cura dei ragni ho trovato un mega dungeon no no qua ci fai qua ci fai un mega nooo oh calma ragazzi posso fare una mega farm eh se ce n'è uno anche qua a sinistra no che non c'è oddio quanta roba ragazzi oddio quanta roba peccato che le cesse sono vuote perché c'è un altro dungeon c'è un altro dungeon qui c'è un altro spawner eh lo so c'è un altro ancora più avanti oh cazzo oddio mio ma si può fare una tripla farm due di ragni e uno di zombie oh merda una strega del cazzo dove cazzo sei vieni con noi ma non è da solo mi sono perso vieni con noi un'altra chest ed è vuota si vabbè dai regolare il male hafif ma dove cazzo sei non lo so io sono caduto in un buco allora aspetta torna indietro Sury andiamo dal bambino che si perde un buco piccoletto dove è andato è di qua ma buco che cazzo fermati Stan e dopo di me gridava verrà la fine del mondo ragazzi ho trovato qualcosa ragazzi ho trovato qualcosa ah è la stronghold cos'è sta roba ma va che culo pazzesco che c'ha io non ti credo io non ti credo